bentornati nel corso di fotografia digitale oggi trattiamo gli obiettivi macro quindi scattare in macro la macrofotografia è l'arte la scienza di ritrarre soggetti da brevissima distanza tecnicamente una fotografia macro è un'immagine le cui dimensioni proiettate dalla lente sul sensore risultano pari o superiori a quelle del soggetto reale tutti gli obiettivi hanno una distanza minima di messa a fuoco e pochi ne presentano una particolarmente ridotta e che limita le dimensioni dell'immagine proiettata per scattare una macro dovremmo usare uno o più degli accessori che consentono di ridurre la distanza minima di messa a fuoco o comunque montare un obiettivo macro il fattore di ingrandimento descrive le dimensioni di un'immagine proiettata su un sensore in relazione alle dimensioni effettive del soggetto stesso un fattore di ingrandimento di uno per o maggiore ha effettive caratteristiche macro e indica la proiezione di un'immagine con dimensioni pari o superiori al vero il fattore di ingrandimento è indicato anche come rapporto 1 a 1 è corrispondente a 1 per 2 a 1 è corrispondente a 2 per e così via come vediamo dalla slide con un fattore di ingrandimento di 1 a 2 cioè di 0,5 per l'immagine del soggetto corrisponde a metà della dimensione reale sul sensore l'immagine di un soggetto grande 18 mm quindi risulterebbe di 9 mm sul sensore un quarto della grandezza di un sensore full frame in pratica mentre invece passando a un ingrandimento 1 per l'immagine del soggetto corrisponde sul sensore alle dimensioni reali quindi un soggetto grande 18 mm apparirà di 18 mm anche sul sensore corrispondente alla metà di un sensore full frame mentre aumentando l'ingrandimento a 2 per l'immagine del soggetto apparirà sul sensore grande il doppio rispetto alla realtà quindi l'immagine di un soggetto di 18 mm per esempio diventerà grande 36 mm riempendo un sensore full frame abbiamo degli strumenti che ci consentono di fare macro fotografia quindi ci sono vari modi per scattare delle macro e non tutti sfruttano un obiettivo apposito con l'accessorio giusto si può conferire temporaneamente a qualsiasi obiettivo la capacità di mettere a fuoco da vicino questo è un modo eccellente per di sperimentare la macro fotografia senza senza avere dei costi eccessivi tuttavia tuttavia un obiettivo macro risulta molto più comodo e qualitativamente superiore abbiamo come si evince dalla slide le lenti close up che sono delle ottiche supplementari che si avvitano all'obiettivo per ridurre la distanza minima di messa a fuoco esistono lenti close up di differenza di differente potenza misurata in diottrie maggiore il valore maggiore sarà l'ingrandimento possiamo utilizzare anche più lenti close up per aumentare ancora di più l'ingrandimento ma la qualità ne soffrirà i vantaggi di queste lenti close up sono che sono utilizzabili su qualsiasi obiettivo sono più economiche di una lente macro e non inificiano sul la f dell'obiettivo gli svantaggi sono che la qualità dell'immagine non può essere bassa potrebbe essere necessaria più di una lente e la macro fotografia richiede lenti più potenti abbiamo poi i tipi i tubi di prolunga che si collocano tra la macchina e l'obiettivo non comprendono elementi ottici quindi non intaccano la qualità dell'immagine i tubi accorciano la distanza di messa a fuoco dell'obiettivo aumentando l'ingrandimento dell'immagine quindi i tubi di prolunga vengono solitamente venduti a gruppi di tre possono essere usati singolarmente o in combinazione i vantaggi dei tubi di prolunga sono che l'ingrandimento di uno per con obiettivi più corti sono i più economici di una lente macro e non intaccano la qualità dell'immagine gli svantaggi sono che è impossibile avere un autofocus con questi tubi semplici non si può mettere a fuoco all'infinito e la distanza di lavoro è limitata un altro strumento che abbiamo per scattare in macro forse il migliore sono gli obiettivi macro specifici sono disponibili in varie lunghezze focali per tutte le macchine moderne l'ingrandimento minimo di un obiettivo macro è uno per ma ne esistono di più specializzati che raggiungono un ingrandimento di 5x gli obiettivi macro più moderni dispongono anche di una stabilizzazione dell'immagine e sono quindi utilizzabili anche a mano libera i vantaggi sono sicuramente l'eccellente qualità dell'immagine una distanza di messa a fuoco all'infinito anche per fotografie non macro possono essere utilizzati anche per fare fotografie non macro tra gli svantaggi abbiamo sicuramente il costo che è molto più elevato delle altre opzioni appena descritte sono le lenti macro sono più lunghe sono pesanti abbiamo delle lenti macro più lunghe che sono pesanti sono specifici per ogni sistema di macchina cos'è la distanza di messa a fuoco? è la distanza minima del soggetto dal soggetto alla quale è possibile mettere a fuoco la distanza di messa a fuoco di un obiettivo macro 1 a 1 determina la prospettiva della foto quando risulterà facile illuminare il soggetto o usare accessori come filtri e paralluci è quando sarà probabile che tu disturbi il soggetto maggiore è la lunghezza focale della lente maggiore è la distanza di messa a fuoco utilizzando dei tubi di prolunga con un grand'angolo si aumenterà il fattore di ingrandimento ma si avrà una distanza di messa a fuoco molto ridotta quindi anche per questa lezione è tutto nella prossima lezione tratteremo in particolare i tubi di prolunga quindi come mettere a fuoco più da vicino grazie per avermi seguito vi ricordo di iscrivervi al programma e mettere un like ai miei video se vi sono piaciuti grazie e ci vediamo alla prossima lezione